Non ho potuto che salutare con piacere la proposta della Commissione di un certificato per agevolare gli spostamenti dei cittadini europei. Non un obbligo a vaccinarsi, anche se il vaccino è l'unica arma efficace che abbiamo per combattere questa guerra, ma uno strumento per poter viaggiare in sicurezza senza essere di pericolo per la salute degli altri. Uno strumento che non limita la circolazione che è vaccinato, come spesso si sente erroneamente dire, ma che per garantire uno dei pilastri dell'Unione, messo a dura prova in un tempo di pandemia globale, la libertà di circolazione, fissa delle regole uguali per tutti. Abbiamo spesso criticato, giustamente, l'approccio caotico diversificato degli Stati dell'Unione nelle misure di contenimento del Covid. Il certificato, invece, deve avere regole uguali per tutti gli Stati membri, che non devono poi però imporre altre misure restrittive. Abbiamo bisogno di dare tutti insieme un messaggio rapido, di chiarezza e al tempo stesso di fiducia ai cittadini per dire loro che è possibile ricominciare a viaggiare e che se anche non sarà un ritorno alla normalità a cui eravamo abituati, l'Europa riparte, l'Europa riapre.